Oggi sono veramente esagitata, cosa mi succede? Non ho neanche bevuto il caffè, io non lo bevo il caffè, non lo so, sarà l'emozione... Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Finalmente torno con un video sui segni zodiacali, che so essere i vostri preferiti perché ogni volta mi dite fallo di questo cosa, di quest'altra cosa, di quest'altra cosa, quindi oggi vi accontento e quindi vi affiopperò un film Disney basato ovviamente sul vostro segno zodiacale. Come al solito vi ricordo che se non vi ritrovate perfettamente è perché il tema natale è importante. Anche se siete del segno del, non lo so, del leone, ma avete un tema natale completamente diverso, magari non vi ritrovate in tutte le cose del leone. Se non avete idea di che cosa io stia parlando, cercate tema natale su Google e avrete le risposte a tutti i vostri dubbi. Ma comunque, prima di iniziare, come al solito, piccolo inserto autopromozionale. Benvenuti nell'inserto promozionale che cercherò di far durare meno di 30 secondi perché altrimenti mi chiudete il video, ve conosco. Sotto nell'info box... ma perché sto usando sto coso? Sotto nell'info box trovate il sito di Pampling, che vende felpe, magliette e altro tipo di merchandise a tema film, serie tv e videogiochi. Se vi piacciono queste cose, mi raccomando, spulciate il loro sito, hanno veramente delle grafiche super carine, ce n'è per tutti i gusti. E potete utilizzare il mio codice sconto Cipollotto per avere il 20% di sconto su tutti gli acquisti sul sito. E tra l'altro, questa settimana stanno facendo delle offerte speciali per il Black Friday, quindi... Vi ricordo poi che è ancora attivo anche il mio codice sconto di Colvin, quindi se volete regalarvi delle piante, dei fiori, addobbarvi la casa, non lo so, vivere in una urban jungle, che fa molto fico di questi tempi. Potete utilizzare anche qui il mio codice sconto Juliol, preciso che non l'ho scelto io il codice sconto, altrimenti avrei scelto qualcosa di molto più divertente, ma va bene. Comunque, a parte questo. Anche qui, grazie al mio codice sconto, potrete avere il 20% di sconto sugli acquisti sul loro sito. Mi raccomando, affrettatevi perché finisce tra un po', tipo i primi di dicembre. Bene, fine dell'inserzione autopromozionale, torniamo al video. Partiamo, come al solito, dai nostri amici dell'Ariete. Chissà quale film avrò scelto per le amici Ariete. Non so, voi che siete così... Impulsivi? Amanti delle risse? Ovviamente ho scelto per voi Ralph Spacca Tutto, perché anche solo il titolo so che già vi attira. Se potete spaccare roba, litigare con la gente, siete solo contenti. Ma in realtà anche voi nascondete un animo tenero, e infatti secondo me Ralph Spacca Tutto è un po', no, il connubio di queste due robe. Perché secondo me ci sono due personaggi all'interno del film, ovvero Ralph, il protagonista, e Vanellope, l'altra protagonista del film, in cui secondo me un Ariete si potrebbe ritrovare molto. Perché da una parte abbiamo Ralph, che è appunto uno che spacca roba, cioè come lo definisci, insomma, lui spacca cose, però non vorrebbe. Ma è un po' il suo istinto, è nato così. E dall'altra parte c'è Vanellope, che invece è molto sassy, le piace essere al centro dell'attenzione, le piace essere la migliore di tutti, vuole vincere ad ogni costo, insomma, eh? Amici Ariete, lo so che vi state rivedendo in questa descrizione. Ah, ovviamente non perderò troppo tempo a descrivervi film, perché essendo film Disney classici, penso che li conosciate. O comunque spero di darvi, no, quelle piccole informazioni che vi spingano nel caso a vederli, se non li avete mai visti. Passiamo al Toro. Il Toro è uno dei miei segni preferiti. Per voi addirittura ho selezionato due film, perché ero un po' indecisa, e quindi nell'indecisione ho detto che sai che c'è, io non scelgo. Si vede che sono ascendente gemelli. Comunque, il primo film che ho selezionato per voi è ovviamente Lilo e Stitch. Prima di tutto perché è un film molto divertente, ma allo stesso tempo molto, come dire, emotivo. E si parla soprattutto di rapporti familiari in Lilo e Stitch. E sappiamo che voi del Toro siete un po' ossessionati da questa cosa della famiglia, la famiglia unita che deve stare insieme. No, siete un po' così, però allo stesso tempo siete anche molto duri. Tenete sempre le distanze, siete sempre un po' no, non ti conosco. Tipico dei segni di terra questo. E quindi, insomma, avete un po' di difficoltà ad esprimere i vostri sentimenti. Anche se in realtà ne avete tanti, perché i Toro sono un po' così, hanno questa facciata dura, ma in realtà sotto sotto sono dei tatoni. E secondo me Lilo e Stitch rappresenta molto bene tutto questo, così come Big Hero 6, che è appunto il secondo film che ho selezionato per voi. Perché anche qui abbiamo un tema familiare di fondo. È uno dei personaggi più cute dell'universo Disney, ovvero B-Max, che è adorabile. E so che voi del Toro apprezzerete questa cosa. Perché sì, ripeto, avete questa facciata, no, da un po' mi tengo alla larga, non esprimo i miei sentimenti, ma in fondo anche voi piangerete a guardare Lilo e Stitch e Big Hero 6, anche se cercherete di negarlo. Passiamo ai gemelli. Per voi gemelli ho selezionato Rapunzel, che non c'è niente che grida gemelli più di Rapunzel, a mio parere. Siete un po' dive anche voi, non quanto i leone, ma anche voi siete un po' dive. Mi piace stare al centro dell'attenzione, siete molto energici e soprattutto siete indecisi. Già. L'indecisione regna sovrana. In questo somigliate molto alla bilancia, però voi gemelli, mamma mia ragazzi. E infatti ho selezionato Rapunzel proprio perché lei passa un'intera sequenza del film a non sapere che cosa fare, cioè se abbandonare la torre per andare a inseguire il suo sogno, oppure se rimanere lì, non tradire la madre fondamentalmente. E so che in questo vi ritroverete tantissimo. Passiamo adesso al cancro. Amici del cancro, vi ho selezionato il film più classico dei classici, ovvero Cenerentola. E voi direte se vabbè Cenerentola, ma che... Vi ho inquadrati, eh? Non pensate. Cenerentola perché prima di tutto è così bello. Allora, non c'è niente di più estetically pleasing di Cenerentola. Allora, se lo rivedete adesso, non so da quanto tempo non rivedete il classico Disney Cenerentola, ma vi prego di farlo, soprattutto se siete del cancro o della bilancia della vergine, insomma. Rivedetelo perché apprezzerete tantissimo l'estetica del film. Perché wow! Wow! È tutto molto pastelloso, tutto molto rosa celeste, colori soft, che secondo me si affiancano molto bene al mood soft del cancro. E poi, secondo me, Cenerentola è anche lei un po' del cancro. Perché lei si preoccupa sempre degli altri e mette sempre gli altri davanti a tutto, fino a quando poi dice, sai cosa? Io me ne vado, sposo un uricco e ve lascio qua, ciao! E poi diciamocelo, secondo me Cenerentola è tipo la principessa più relatable di tutte quante. C'è una famiglia disfunzionale a dei livelli incredibili. Possessionata dalle scarpe e i bei vestiti, farebbe di tutto pur di farsi un giro al castello. Anche perché, ricordiamocelo, Cenerentola mica voleva andare a vedere il principe, gli evregava niente del principe. Lei voleva solo andare a vedere il castello perché era curiosa. E poi, tac, si è beccata la proposta di matrimonio. Cioè, insomma, chi è che non vorrebbe essere Cenerentola? Dai! Ma andiamo avanti. Passiamo al leone. Come vi anticipavo, i leone sono le dive dello zodiaco. Loro veramente... Certe volte sono proprio pesanti, eh. Pesanti perché hanno bisogno di troppa attenzione, i leone. Se per cinque minuti toglie un attimo il focus da loro, impazziscono. E quindi, ovviamente, non potevo non selezionare per voi le follie dell'imperatore. Ora, ditemi se Cusco non è un leone, fatto e finito. Insomma, una persona che sfratta della gente da casa sua, semplicemente perché si vuole costruire una piscina per farsi un autoregalo per il suo compleanno, non può che essere un leone. E non mentite, ammettetelo, lo sapete che siete così. Però ogni tanto anche voi rinsavite e capite che effettivamente il mondo non gira intorno a voi. Ed è lo stesso percorso che fa Cusco, e quindi, secondo me, questo film vi rappresenta al 100%. E poi diciamolo, secondo me, le foglie dell'imperatore è il miglior film Disney mai creato. E sapevo che voi, leone, avreste apprezzato questa cosa, perché volete sempre essere i migliori. Passiamo ora alla Vergine. Per voi, amici Vergine, voi pignoli e ossessivo compulsivi, ho selezionato Hercules, perché appunto oltre ad essere dei maniaci, siete anche dei fastidiosi, so tutto io. Un po' come Capricorno, però peggio. Peggio. E quindi chi meglio di voi potrebbe apprezzare un film che rende omaggio alla Grecia Antica? Anche se sappiamo che, mentre guarderete questo film, non farete altro che indicare le cose che sono sbagliate e incongruenti. Perché siete fatti così, vi piace puntualizzare. Passiamo alla bilancia. Anche in questo caso ho selezionato per voi due film, perché anche qui ero indecisa. Il mio ascendente gemelli si fa sentire, si fa sentire. Gli amici della bilancia, come vi anticipavo poiché anzi, sono anche loro un po' gli indecisi dello zodiaco. Però, secondo me, la cosa che li caratterizza di più è il loro essere estremamente amichevoli, tant'è che non capite mai se stanno flirtando o se sono gentili. Loro hanno questo problema di fondo. Ma in realtà non è un vero problema, perché loro effettivamente flirtano con chiunque. E ne sono consapevoli, ma mentono. E quindi per questo vostro animo un po' così, no? Un po' da... Ammiratemi. Ditemi che sono meraviglioso. Ho selezionato gli aristogatti, perché secondo me esprime molto questo vostro mood un po' snob. Voi siete un po' snob. Perché quelli della bilancia sono proprio quelli che, tipo, sperano che tu chieda loro di uscire e poi ti dicono di no apposta per sentirsi superiori. Ti vedo che stai facendo sì con la testa, ammettilo. E per la stessa ragione ho selezionato Mary Poppins, perché solo una bilancia potrebbe pronunciare la frase praticamente perfetta sotto ogni punto di vista e crederci veramente. Ma passiamo allo scorpione. Per voi ero un po' indecisa, ma poi ho detto sai cosa, andiamo sui classici. E infatti ho selezionato per gli amici scorpione La Bella Addormentata nel Bosco e l'ho fatto per una ragione precisa e questa ragione precisa si chiama Malefica, che incarna perfettamente il vostro animo. Perché sì, lo sappiamo, siete cattivelli e inutile che fate finta di non esserlo. Però vi dirò, io francamente apprezzo molto il vostro cinismo e il vostro odio nei confronti del mondo, perché a mio parere è giustificato, ma sarà che io sono un capricorno e insomma su queste cose andiamo d'accordo. Passiamo al sagittario. Per gli amici sagittario non potevo non selezionare la sirenetta. Allora, una che è un pesce, già questa è una cosa un po' particolare e voi sagittario siete un po' particolari, ma soprattutto un pesce che fa di tutto per raggiungere la terra, se ne frega di tutti e dice sapete cosa? Io ve mollo e me ne vado a vivere sulla terra insieme a Eric. No, perché i sagittario sono così. Cioè voi vi girate e loro spariscono e poi scoprite che sono finiti chissà dove a fare chissà cosa. Sono proprio instabili, così volubili, incredibile. Sagittario veramente è uno dei segni più strambi secondo me, peggio dell'acquario in certi casi. Ma passiamo al capricorno, il mio segno. E anche in questo caso ho selezionato due film. Il primo è La bella e la bestia, perché tutti noi capricorno vorremmo qualcuno che andasse oltre il primo impatto che diamo, che è sempre terribile perché sembriamo antipatici, snob, delle persone da prendere a schiaffi, e che capisse che dietro questa corazza dura c'è in realtà un animo buono. E l'altro film ovviamente è La principessa e il ranocchio, perché Tiana è palesamente un capricorno. Lei praticamente se fa in quattro, lavora 24 ore al giorno per riuscire ad ottenere il suo obiettivo e sapete cosa ci riesce. Grazie Tiana ce l'hai fatta per tutti noi, sei un esempio da seguire. Passiamo all'acquario. Gli strambi. Secondo me gli acquario sono diventati strambi a furia di essere chiamati strambi. Vabbè, comunque. Anche per voi ho selezionato due film. Il primo ovviamente Alice nel Paese delle Meraviglie, perché voi ci vivete nel Paese delle Meraviglie palesemente, perché secondo me non appartenete proprio a questo pianeta. Cioè sembra sempre che voi siate da un'altra parte con la testa. Cioè il vostro corpo è qui, ma voi siete da tutt'altra parte, non lo so. E poi insomma, secondo me solo la mente di un acquario potrebbe arrivare a pensare delle cose talmente assurde come le cose che succedono nel Paese delle Meraviglie. Tipo il Brucalifo, lo stregatto. Cioè solo un acquario, no? Può arrivare a certe robe. E poi ho scelto per voi anche Il Pianeta del Tesoro per una ragione molto precisa, perché è un film molto particolare, molto strano e molto sottovalutato. Cosa che secondo me vale anche per gli amici acquario. Molto particolari, ma sottovalutati. E concludiamo con gli amici pesci. Per voi è stato semplice, perché insomma basta scegliere qualcosa che faccia piangere e voi siete contenti. Qualcosa di sentimentale. Però vorrei precisare una cosa, perché abbiamo sempre detto che i pesci sono molto sentimentali, molto emotivi, però in realtà sono anche un po' cattivelli, perché loro utilizzano un po' questa loro cosa per manipolare. Sono un po' manipolatori. Cioè non sono come il cancro che effettivamente mettono sempre davanti gli altri, poi si sanno essere stronzi, ma in un modo diverso. I pesci sono un po' manipolatori. Sarà la questione acqua? Non lo so, un po' come lo scorpione, no? Macchinosi. Quindi sì, sensibili, ma fate attenzione. Insomma, per il vostro essere così legati all'emotività, ho scelto Ritorno al Bosco dei Cento Acri, che rappresenta molto, no? Questo vostro bisogno di ritrovare il bambino interiore, queste robe, no? Da pesci. Essere in contatto con la vostra emotività, tutte queste cose qui. In cui, tra l'altro, anche io mi rivedo molto, avendo la luna in pesci, che è tipo la cosa più terribile che vi potesse capitare. Ma comunque, detto questo, si conclude il nostro video. Io mi scuso per i rumori di sottofondo. Qua sotto stanno, non lo so, facendo un bordello allucinante. E niente, come al solito, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate del video, se vi rivedete o meno nella descrizione del vostro segno, e se vi piacciono, insomma, i film che vi ho appioppato. Vi ricordo, come al solito, che sono dei video così, fatti un po' per scherzare, non prendete troppo sul serio tutte le robe, e soprattutto non ci rimanete male se dico qualche cavolata sul vostro segno. Non ce l'ho con nessuno, è ovvio. Anche perché sono la prima a parlare malissimo del mio segno zodiacale, quindi è... E niente, quindi vi ricordo nuovamente qui sotto i codici di sconto, se volete fare degli acquisti e spendere meno, a me sembra, insomma, conveniente. Come sempre per correttezza, vi ricordo anche che io ricevo una piccola commissione se utilizzate il mio codice di sconto. Quindi contribuite anche un po' ad aiutare il canale a crescere. E nulla, poi, insomma, se vi va di scrivervi, di lasciarmi un commento o qualsiasi cosa, mi fa super piacere, e mi raccomando, seguitemi su Instagram, perché là vi aggiorno sulle robe, e parliamo di cose, e insomma, su Instagram ci divertiamo molto. Ammettiamolo. Oggi sono veramente esagitata. Cosa mi succede? Non ho neanche bevuto il caffè, io non lo bevo il caffè, non lo so, sarà l'emozione. Comunque, mi do una calmata e niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!